Salve a tutti, benvenuti in una volta di questa serie di video show domenica 22 con i nostri Washington Nationals e allora, e allora, io onestamente ho registrato un po' prima, un po' di puntate tutte assieme adesso sono una nuova, diciamo, sequenza, sessioni, registrazioni, non so se completerà sotto questa puntata o quelle prossime non so, non ho idea, non la vedo, diciamo che adesso dovete alla settimana ho poco tempo per fare registrazione quindi le concentro soprattutto al sabato e alla domenica, ecco detto questo, allora, siamo noi, ok, Nationals contro Filadelfia, signori iniziamo gli scontri diretti contro Filadelfia e questi dobbiamo vincere non è che c'è poco da stare a fare, insomma, dobbiamo vincere dobbiamo vincere e dobbiamo schierare il meglio possibile quindi Strasbourg andiamo con quelli che abbiamo e dobbiamo cercare di vincere dobbiamo cercare di vincere il più possibile, possibilmente tutte perché, perché sì, perché sì credo sia una delle poche possibilità rimaste che ci sono rimaste per andare a accorciare andiamo a riprendere su di loro adesso vediamo Luis Garcia la battuta Kyle Gibson Monte di Lancio vai Luis ok, 1-1 va bene va bene, intanto scusate devo controllare una cosa il microfono funziona benissimo scusate qualche tocchetto per scusate scusate qualche scusate per i test audio ma dovevo farli 2-1 ok va bene scusate intanto così stavamo un attimo dei dai dei dai e fa va bene 2-2 va bene va bene va bene va bene cerchiamo di stancarlo il più possibile andiamo sul logonamento 3-2 benissimo va bene dei dai dei dai ok va bene prima base regalata bene così è un turno si spera un turno che lanci in più per 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 lui Alcides Alcides non ci credo e e e iniziamo bene Alcides fuori campo di Alcides fuori campo di Alcides 2-0 bene bene così signori bene così difficoltà aumentata ah sulla battuta difficoltà aumentata benissimo sotto e faul va bene very late fa niente 0-1 va bene 1-1 ok va bene va bene va bene va bene va bene dai sotto grazie arbitro 2-1 va bene dai bene bene vabbè si fa si fa ah mi sembrava mi sembrava fuori campo anche lì sotto onestamente mi sembrava che arrivassi a sbattere il muro invece no invece altro fuori no doppia no è doppia automatica rimbalzato è andata fuori doppia automatica va bene va bene lo stesso doppia automatica va bene così 1-0 va bene va bene 2-0 benissimo va bene stiamo iniziando bene sta partita vai Josh e Bell 2-1 vabbè pensavo stessi andando fuori ma va bene 2-1 2-1 2-1 2-1 rappolle questa invece 2-2 calma stiamo calmi non abbiamo fretta non abbiamo fretta tra l'altro pure Erly arbitro un formissima chi ha chiamato boll questa è scandalosa come errore ma va bene 3-2 ok sempre 3-2 va bene va bene va bene va bene dai dai prima eliminato va bene prima eliminato e adesso se tra il nando e c'è la battuta era boll mi sembrava 0-1 calma devo stare calmo non devo farmi prendere devo stare calmo 0-1 va bene ok eh no niente sono scemo io niente pensavo vabbè scusate errore mio errore mio errore mio errore mio errore mio errore mio e vabbè comunque 2-0 non male non male almeno fate ribattuta ma poi oh per favore dalla al terza base vabbè ok non inizia benissimo ok 0-1 poi ancora slarv ehi ok no porca miseria ma perché pensavo di arrivarci prima con la corsa porca miseria che ho sbagliato no vabbè so cretino io sto un cretino io so sbagliando tutto so sbagliando tutto sto sbagliando tutto sto sbagliando tutto sto sbagliando tutto sto sbagliando tutto fa 2-1-1 madre santi qua sono sbagliato tutto io non quince è tua seriamente tua seriamente tua a posto dai non ho eliminato poi poi qua 1-0 io ho proprio sbagliato tutto faccio di lancio 2-2-1-1 slarv solo un eliminato solo un eliminato pensavo che deve essere eliminato anche quello al volo sto sbagliando tutto potevo farla doppia potevo farla doppia niente e niente 0-1 2-1 intanto l'ho accorciato 2-0-2 sto troppo troppo slarv però troppo slarv è fatto lo sapevo spiegati e non fai e minchia fai le finte però dai 3-2 0-1 0-1 niente primo inning disastro in fase difensiva che vanifica completamente un buon inizio in fase offensiva e niente finisce il primo inning 3-2 per loro 3-2 per loro disastro che vanifica un buon inizio offensivo niente 0-1 poi dai Kaybert eh vabbè 0-2 però porca miseria Kaybert non ci cogli però dai bene prima eliminato era strabolla che cazzo faccio pure io mamma mia fu fuori fase niente Nick Banks niente foul 0-1 calma devo stare calma devo stare calma devo stare calma 0-2 era comunque strike calma calma e niente però io l'ho indirizzato con la levetta là in basso però eh vabbè verielli ok però Brady house ok 1-0 dai Brady 1-0 niente però niente però tu lei addirittura too late 1-1 2-1 ok va bene con la calma 2-2 sembrava che stia andando via niente 2-2 3-2 ok scusate sono dimenticato la suoneria messa il cellulare è fatto 3-2 ok no niente nessun punto al secondo inning adesso 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 però devo cercare di evita disastri 0-1 0-1 poi ecco 4-2 Philadelphia 4-2 Philadelphia e è partita quasi compromessa già al secondo inning Banks è tua sarà veramente tua ok prima eliminato sarà durissima ragazzi sarà dura sarà dura sarà veramente dura ok l'arbitro oggi veramente informissimo oggi l'arbitro c'è anche l'arbitro oggi almeno male 1-1 ma con tutte queste slarve non è che diventiamo un po' troppo leggibili io questa slarve così ecco 2-2 ovviamente una veloce ta ecco almeno non fa fuoricampo e lo si rima dai secondo eliminato dai secondo eliminato cerchiamo di non fare danno almeno sto inning cioè non fare danno già il danno è stato fatto hanno fatto il fuoricampo 4-2 hanno chiuso la partita 2-0 però vabbè vediamo vediamo un po' vediamo un po' 2-0 2-1 questo foul poi circle merge vabbè ecchi no sbagliato 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 vabbè 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 eeeh vabbè 1-1 questo sta succedendo con strasburg puoi immaginare quando dovrò schierare i vari espino compagnia cantante immaginate con quelli come andavano a fine vabbè 6-2 fino al secondo inning che disastro che disastro signori che disastro 0-1 Robles alla battuta era bolle questo maledetto io 0-2 calma sempre 0-2 eh late vabbè 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 o mi sembrava centrale ma mi sembrava centrale ma è che non so più leggere le traiettorie basta pochi giorni che non registro una settimana non registro 1-0 1-0 vabbè 1-1 1-1 dai dai 2-1 ok dai 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 eh che pascoli 2-2 dai calma 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 di niente non so più leggere le traiettorie non so più leggere le traiettorie e con questo è successo scusate l'interruzione al cides dai dai ok vabbè doppia le al cides è almeno una cosa e adesso sotto alla battuta sotto nella bolla devo stare calmo devo stare calmo devo stare calmo sono andato un po' fuori fase devo stare calmo oh sono due volte che gli regalo lo strike dai 0-2 0-2 scusate 0-2 ok 1-2 dai va bene va bene va bene 2-2 ok tirando tutto in basso 2-2 eeeh niente 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 vabbò eeeh non facciamo punti neanche stavolta e adesso Strasburg per favore dobbiamo cercare di evitare drammi adesso perché se dobbiamo un attimo smettere con la con l'emorragia di di punti perché se no non possiamo recuperarli in più in nessun modo tanto vale se dobbiamo subire 3 punti a inning tanto vale la si finisce prima sta partita gliela si dà vinta punta e basta prima eliminato poi allora ok di qua la 0-1 va bene poi slarv ok a posto secondo il minato dai 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 think dai think no porca miseria poi cerco cosa ok 1-1 slarv ma fallo un salto maledetto te fallo un salto fallo un salto alza il braccio che ce la potevi fare porca miseria e dai minchia dobbiamo fare così schifo proprio gli scontri diretti proprio con filadelfia porca miseria proprio con filadelfia che sono le partite che più di tutte dobbiamo cercare di vincere dobbiamo far schifo proprio adesso proprio adesso proprio adesso dobbiamo fare così schifo vabbè 2-1 3-1 oh bravo l'hai capito secca strike oh 3-2 perfetto vabbè niente fuoricampo 8-2 ecco slarv 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 io non ne lancio più le slarv basta basta no secca diretta non ne lancio più le slarv non ne lancio più le slarv sotto sotto è tua allunga il braccio non fare il t-rex porca miseria allunga il braccio 1-2 no secca così in faccia per intimidirlo da secca calma vieni vieni no porca volevo farlo un attimo ho provato la tattica psicologica dell'aspettare per provare a farlo andare verso la seconda comincio ad andare verso la seconda seconda base 0-1 perché ho fatto slarv no vabbè fuoricampo no meno male è andata bene stavola terzo inning 8-2 filadelfia bene ci hanno fatto 8 punti in tre inning bene no ma benissimo benissimo e vabbè primo eliminato e mamma mia madre santissima che roba tremenda che roba tremenda primo eliminato adesso vabbè e allora c'è la seconda eliminata se non la sbagliano beh questi non sbagliano questi non sbagliano madre santissima che partita ai 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 1-0 poi 1-1 non riesco a leggere traiettorie non riesco a leggere traiettorie è assurdo non riesco a leggere traiettorie 1-1 2-1 dai cerchiamo di tornare concentrati 2-1 ok dai fuori campo eh dai 8-3 meglio che niente meglio che niente 8-3 beh ma tanto ora c'è Nick Banks alla battuta questo è il terzo eliminato abbastanza certo 1-0 dai 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 bravo lui 1-1 1-1 eeeh ok valida Nick Banks in prima base bam dai proviamo a reagire d'orgoglio più che altro Brady House alla battuta il terzo del trittico della tristezza va bene eeeh vabbè ho sbagliato tutto 0-1 sbagliato anche la direzione alla mazza 0-1 va bene 1-1 fermi non fate cavolate stati fermo dove sei 1-1 va bene 1-2 questa mi sembrava scendersse giù dà impressione di scendere giù invece no 1-2 ok eeeh dai andate 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 dai che ti fa un punto dai oh 8-4 dai 2 punti bene così bene così Robles la battuta 1-0 va bene 1-0 1-0 orco di quella miseria 1-1 calmo dobbiamo stare calmi dobbiamo stare calmi dobbiamo stare calmi 2-1 ok non è attirata una in zona di strike una dica ti una non l'ha attirata ok e la prende al volo no niente meno male dico porca miseria perché io premo non avete sentito ruolo in uno dei tasti io ho premuto tanto prima farlo andare in terza base no è stato fermo è partito dopo e allora porca miseria vabbè Luis Garcia prima in terza base Luis Garcia la battuta era Paul fermo dove cazzo sta andando dove cazzo sta andando da andare io Brady 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 perché Brady perché ma mamma Nick mi ha preso un colpo mi ha preso un colpo stavo per mancarlo allora slarv però basta con le slarv tanto cielo aspetta vai facci 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 dai niente perché fai il trappolone no perché ho premuto X le slarv le slarv sono le slarv sono battute regalate oh Lara ha capito dai secca la oh lo vedete belle veloci secche oh dai che forse l'ha capito forse il ricevitore nostro l'ha capito uno due va benissimo lo stesso dai oh secche veloci secche veloci benissimo dai Ruiz è tua a posto secondo eliminato dai 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 poi no la faccio secca veloce slarv non ne faccio più ogni volta che ogni volta che lancio una slarv poi c'è poi c'è c'è ogni volta che si lancia una slarv poi c'è c'è la tragedia in atto in arrivo qua in faccia per intimidirlo dai va benissimo uguale 0-2 slarv no 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 mai più slarv mai più basta con le slarv basta con le slarv sinker te va bene te l'accetto sinker l'accetto bene o male ha girato la mazza bene riusciamo a concludere un inning senza subire punti che bello wow dai finalmente al quarto inning riusciamo a non subire punti benissimo e adesso Luis Garcia il primo ricomincia il giro 1-0 dai dai comunque in giallo il loro lanciatore in giallo e io sono un cretino 0-1 1-1 scusate 2-1 ok va bene dai Luis dai che forse si fa valida è valida è una valida è una valida dai è una valida dai 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 prima base occupata Alcides Alcides porca mi sembrava mi sembrava si sta andando via in alto 0-1 va bene ok bene fermi non partite non fate cavolate fermi va bene così vieni due base occupate dai 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 e adesso sotto 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 la battuta sotto ok 1-0 dai 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 2-0 ok va bene dai siamo calmi tu in sotto in cursa al secondo nello no si secondo nello al secondo nello 8-7 ci si rifacciamo sotto dai 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 adonis medina cambia il lanciatore adonis medina come lancia lui ma tipo normale va bene come velocità vediamo un tipo di lancio che fa vabbè niente prima eliminato prima eliminato va bene dai Cesar Hernandez dai Cesar eeeh no qua mi sa che e invece salvo e invece salvo dai 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 e adesso comincia il trittico della tristezza che ipertruizza la battuta eeeh no è a prendere a volo no si calma torna torna in base vabbè secondo eliminato poi vabbè Nick Banks vabbè vabbè Nick Banks 0-1 mi sa che questo non regala proprio niente buona donis medina 1-1 questo va per la zona di strike trappolo io non è famiglia questo non regala niente non regala nulla questo 1-2 bella strike uguale va bene 1-2 sempre 1-2 questa è la ball porca miseria tira un po' dentro un po' fuori ok va bene vai dai terzo vai 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 salvo 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 abbiamo fatto il punto li abbiamo rimontati 8-8 salvo 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 Brady House il terzo del trittico della tristezza il terzo del trittico della tristezza dai Brady dai Brady battuta benissimo no ferma ferma torna indietro torna indietro torna indietro torna indietro teniamoci il punto di vantaggio 9-8 stiamo in vantaggio va bene va bene va bene va bene adesso Robles 0-1 va bene lanciata bene comunque strike 0-1 va bene dai va bene 0-2 calma devo farmi prendere scusate un attimo mi sento torna facciamo una cosa filo scusate filo e ricarica mi ha finito sotto le ruote le rotelle della sedia allora 0-2 niente vabbè finisce il quinto inning però siamo avanti 9-8 alla fine il quinto inning mettiamo fiducia le slarve dai 0-1 però tutte queste slarve dobbiamo finirla questa è basta è già cominciata a toccar ok dai fastball infaccia per intimidirlo infaccia per intimidirlo va benissimo 0-2 no no la faccio potente quale slarve slarve il cazzo basta 0-2 slarve così ecco bravo Strasburg ma io l'ho visto fare un mio lanciatore una cosa del genere lancia si gira lo prende col braccio con la mano con la mano di richiamo bravo Strasburg lanciatore esperienza signori fa valere tutta la sua fa valere tutta la sua esperienza scusate i rumori si stiamo andando un attimo il microfono e adesso Robles dai prendila è tua serenamente tua serenamente tua serenamente tua dai secondo eliminato però io devo mettere sto quinto non ho pensato a mettere gente al bullpen in scaldamento porca miseria allora potrei andare con warm up Finnegan e Edwards va bene così poi qua così ci può stare ci può stare chiamare bolle ci può stare 1-0 bella Strasburg 1-1 e famosa slarv io sempre foul 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 non comincia è foul ecco 1-2 seconda slarv di fira dobbiamo proprio regalargli il fuoricampo no vai beh dai ok ok ah no così è finito il quinto inning il quinto inning finisce con l'oro perfetto 9-8 9-8 finito il quinto inning 9-8 ti ha un vantaggio e adesso Luis Garcia la battuta 1-0 dai 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 2-0 benissimo va bene guarda un po' come si è ribaltata all'inizio della partita 2-0 3-0 benissimo io 2 le lascio andare io 2 le lascio andare 2 le lascio andare anche se ho centrato va benissimo va benissimo lascio andare deve stancarsi è tattica deve stancarsi ok va bene adesso andiamo dai per corte il fuoricampo è corto va bene prima eliminato va bene va bene è lo stesso va bene è lo stesso è good ma è un po' più alta va bene va bene va bene va bene ok Alcides battuta niente secondo eliminato porca miseria vabbè va bene va niente sotto la battuta sotto ok magari va via no vabbè niente nessun punto sesto inning adesso 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 0-1 dai qua così 0-2 ok sinker facciamola così va bene tempo è 0-2 qua così benissimo fino a eliminato dai dai strasburg dai strasburg adesso sinker sinker roto vabbè senti abbiamo prima base ok la seconda base scusate limitiamo i danni hit and run va bene 0-1 ok 0-2 io ho mirato in basso ma va bene uguale circle change niente 1-2 niente 2-2 2-2 spasburg c'ha no queste condizioni a slarv non gliela faccio fa va bene se 2-2 fa va bene niente per forza volete che per te perdere niente bra hai fatto a slarv hai fatto e poi che c'hai tenuto a slarv a slarv e l'indigine di slarv e il pc che ti tagli e ho capito però per 1 ok 2 no no ho premuto dai dai e vabbè no vabbè eeeh no non è più non è più fine egan put in game fine egan put in game vai fine 0 slider 2 vai secondo eliminato va bene va bene va bene fin va bene fin ok slider di qua oh 1-0 no troppe troppe palle allo stesso tipo eh vabbè eliminato a posto ce l'avevo fatta mamma mia ce la siamo vista brutta ce la siamo vista bruttissima ce la siamo vista bruttissima ce la siamo vista bruttissima bruttissima ce la siamo vista morca miseria ok 9-8 9-8 or josh bell alla battuta contro sam conrod loro hanno cambiato il lanciatore nel frattempo eh questo uno è tirane mine 0-1 nooo 0-2 e qua è dura 1-2 ma è duretta adesso vabbè 1-2 va bene lo stesso in me cerca di stancarlo un po' 2-2 ok dai ma vabbè corta no la prende al volo prende al volo mi sa niente prima eliminato va bene fa niente fa niente dai fa niente fine sesto in comunque tempo 9-8 siamo al settimo adesso Cesare Hernández 1-0 dai va bene 1-0 ci ho creduto 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 per un attimo ci ho creduto secondo eliminato eeeh vabbè qua e qua c'è il terzo niente nessun punto è mo mo finnegan no finnegan time fai fin 0-1 ok due nodi una veloce va bene lo stesso 0-2 mi ha tolto l'altro lato ma va bene ok qua in faccia per intimidirlo ok 0-2 qua fine cantina dove dice lui io miro qua olè prima eliminato dai 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 Didi Gregorius noto come noto come Steve Arkell nel telefilm 8 sotto un tetto è lui guardatelo è lui è Steve Arkell voi ci andate per cercare Steve Arkell di 8 sotto un tetto è lui è lui eh non è che è lui però porca amica finnegan ok finne finne ti prego finne ti prego 2-2 fastball tipo in faccia per intimidirlo vabbè va bene lo stesso Nick a posto secondo eliminato dai 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 allora qua bella fast 0-1 vai 0-2 ho mirato un'altra parte ma va bene uguale sempre splitter di qua va bene 0-2 fastball così veloce così sì ma c'è qualche problema io poi miro in alto lancia in basso miro in basso lancia in alto miro a destra lancia a sinistra miro in basso a destra lancia in alto al centro io 7-3 decide un attimo allora meno male intanto l'abbiamo chiusa settimo inning sempre 9-8 sempre 9-8 sempre 9-8 e adesso il secondo del trittico della tristezza Nick Benz ha la battuta batte ma è eliminato non lo immaginavo e vabbè e vabbè d'altronde è il trittico della tristezza che si conclude con Brady House il terzo del trittico della tristezza 0-1 0-1 poi 1-1 ok dai 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 1-2 porca miseria dai dai niente secondo eliminato niente e adesso Victor Robles vai Robles e vabbè di Robles ci prova vabbè niente è su un punto l'ottavo inning è su un punto l'ottavo inning e qua e qua consentitemi di avere paura 1-0 è già in giallo Finnegan è già in giallo Finnegan 1-1 io dovrò schierare Edwards mi sa 1-2 fastball Banks tua seriamente tua a posto rialiminato ma intanto io aspetta capito moonpan schierato il secondo no è avilano warm up avilano avilano splitter foul 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 0-1 slider 2-2 slider slider dai Robles è tua Robles è tua Robles è tua Robles è tua ok secondo terminato dai dai Finnegan mi devi fare l'ultimo sforzo mi devi chiudere sto inning mi devi chiudere sto inning Finne mi devi chiudere sto inning ce la vuoi fa ce la vuoi fa vai ok dai 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 ottavo inning siamo sempre avanti 9-8 Bedrosian Cam Cam Bedrosian Bedrosian alla battuta Luis Garcia è al lancio Luis Garcia alla battuta ricomincia il giro vai Luis eeeh niente questa palombella centrale niente primo eliminato va bene Alcides Alcides ok bene niente secondo eliminato vabbè sotto sotto scusate interruzione sotto faul nabbe 0-1 fa niente fa niente sotto sotto 1-1 1-1 ok va bene va bene va bene va bene va bene va bene 1-2 va bene early va bene va bene ok 1-2 sempre ok va bene usate tutto di prima orca vabbè niente 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 eeeh no eeeh bullpen finnegan put in game finne c'è edwards edwards sta a te va bene 0-1 dai dai edwards dai edwards 1-1 calmi una curva mi curva mi spaventa però dove calma ok fa va bene 2-2 ok fuzzball qua in faccia per intimidirlo 9-9 vabbè 0-1 qua vabbè fa 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 0-2 fuzzball così in faccia per intimidirlo sempre 0-2 poi di qua la fa 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 alfa allora la veloce la fa veloce prima o poi la manca una prima o poi uno lo manca oh devi dire prima o poi una una la manca prima o poi o la manca o la batte che recupera oh dai prima il minato dai 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 la curva è un fuoricampo regalato fuoricampo regalato per forza eh non vi va di giocarvi sta partita volete regalare per forza sto fuoricampo sta vittoria con le curve niente sempre sta parlando io vabbè vabbè eh per forza ecco stavolta va bene secondo eliminato va bene va bene ahiaiaiaiaiai allora va veloce là grazie arbitro 1 0-1 va veloce Due nodi 0-2 Un po' veloce In faccia per intimidirlo In faccia per intimidirlo Ok Aspetta se gli tiri un bestemmione Gira comunque la mazza 1-2 Ok Olè Extra inning Extra inning L'ho fatto sto fuori campo qua L'ha impareggiata Extra inning Proprio quello che temevo Vapo Ti asce bella la battuta 0-1 0-1 0-1 Bene E dai Mannaggia Papelo 0-2 1-2 Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Era boll questa 1-2 Era boll Era boll Era boll Era boll 2-2 Va bene Va bene Siamo calmi Calmi Eeeh Vabbè corta La prende al volo L'ho eliminato Vabbè Vabbè L'altro non era Era comunque strike Quindi Cesar Hernandez L'ha battuta Adesso Ai ai 0-1 Porca 0-1 1-1 Ok Calmi Dobbiamo stare calmi Dobbiamo stare calmi 1-1 Vabbè Very late 1-2 Ok Bene Questa mi sembrava invece una tipo palla curva tipo che andava poi che si andava abbassando Invece è rimasta su Mamma il lancio ha fatto 0-1 Mi comincia il trittico della tristezza Keibert Ruiz 1-0 Era boll 0-2 Calma Calma Ma perché? Perché la giro? Perché? Perché? Dagli un pugno No E adesso Edwards a lanciare per Per tenerci in gara 0-1 0-2 Lancia per i fatti suoi Veramente Non Dai Ok Tempe 0-2 Curva 1-2 1-2 Qua Banks è tua Banks è tua Serenamente Tua Prima eliminato Dai 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 Prima eliminato Poi Curva La 1-0 Fastball Così Dai 1-1 Curva 2-1 2-1 2-1 2-1 I tuoi si sta stancando Io sto stancando Sono nei guai Sono nei guai 3-1 Basta con queste curve Basta con queste palle curve Get in tired L'ho schierato adesso Sto lanciatore L'ho schierato al nono inning Come fa a essere Come fa E se è stanco Un ha lanciato un inning e mezzo E tu A posto Secondo Aliminato Dai Devo fargli chiudere l'inning Devo rischiare a fargli chiudere l'inning Perché se no Non Non usciamo Io a certo punto i lanciatori mi finiscono A certo punto i lanciatori mi finiscono Dai guarda 1-1 Dai Curva No io non capisco E la Te prego Va E tu a Banks E tu a Banks E tu a Banks A posto Vabbè Undicesimo Connor Brogdon Alla lancio Il secondo Da noi c'è Nick Banks Il secondo Del Del tiro della tristezza Dalla triade Scusate Dalla tristezza 0-1 Va bene 1-1 Ok Ma tira forte questo È un po' sì Quando fa veloce sì 1-1 Eh ma che sfiga Porca amica È giusto Ma che pa porca Giusto Sul prima base Preciso Vabbè Brady House Terzo Della triade Della tristezza E anche lui E anche lui Diretto Sul prima base E mo Victor Victor Robles Victor Robles Oh dai Una valida Valida Robles Valida Robles Va bene Va bene E adesso Luis Garcia L'ha battuta Adesso Luis Vedi dove Andrò a lanciarla 0-1 0-1 Calma Vedi Però io L'ho abbastato La levetta In basso A sinistra Perché non 0-2 Tu early Vabbè 1-2 Ok Va bene Porca miseria 1-2 Sempre Ok Sempre 1-2 Ok E calmo 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 Stai Calmo Stai 1-2 1-2 Niente Niente Non riusciamo a far punti Neanche adesso E anche adesso Bisogna lottare Per sopravvivere 0-1 0-1 Poi Edwards E tu A posto Prima eliminato Dai 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 Mamma mia La curva adesso La curva adesso 1-2 1-2 1-2 1-2 Ok Qua Sotto È tua Sotto è tua Sotto è tua A posto Secondo eliminato Dai 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 Curva Basta con le curve Edwards Basta con le curve Va bene Poi veloce Robles Valla a prendere te Valla a prendere te Serenamente tua Serenamente tua Dai Dodicesimo inning Dodicesimo inning Partite più assurde Che mai Alcides Alcides 1-0 Va bene Poi Vai E Palle 1-1 Calma Stiamo molto calmi 2-1 2-1 Dai 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 E E Loro saltano Perché i miei non saltano E stanno a guardare la palla che gli passa qua Qua sopra E la stanno a guardare Perché gli altri saltano Perché gli altri saltano i miei no Perché Primo eliminato Sotto la battuta Sotto 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 Io raga Io continuo a ribadirlo L'anno prossimo Senza di lui Sarà una tragedia O ne pigliano O ne pigliano Un altro Nel roster Un altro Buono Un altro forte Ne battute O farà una tragedia Sarà una tragedia L'anno prossimo Se voi lo state vedendo Quante partite ci sta risolvendo Sotto Lo state vedendo L'anno prossimo sarà una tragedia Josh Bell Sotto due Che belle Non è male È il secondo mio battitore in questo momento Della squadra Ma Non è quei livelli lì Non è uno che ci risolve le partite Ma non sempre 1-2 Vai Josh Vai Josh E vai a fare Grozny Io pure io Pure io Pure io Pure io Vabbè Vabbè Hernandez E vai Staraball Cazzo Staraball Staraball 0-1 0-1 1-1 Va bene Va bene Va bene Va bene 1-1 Poi E vabbè Questa è corta Niente Vabbò Però abbiamo fatto un punto Vi ha fatto un punto Vi ha fatto un punto Abbiamo fatto un punto Sotto Santissimo Sotto No per carità del cielo Avilan Put in game Bulpen Riscaldo Vot E Harris Guardate che cosa Mi sono ridotto Allora dai Avilan No raga Però Non andiamo d'accordo Così Non andiamo d'accordo Così Raga La palla a 2 Allora non mi da un cursore Non ci va nessuno Sai che fa il fant Vabbè 0-1 0-1 Non andiamo d'accordo Non andiamo d'accordo No 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 Così 0-1 0-2 Dai Sbringati Maledetto Sbringati E vai a fare Basta così Vabbè Se è meglio Fatemi chiudere Questa puntata in fretta Perché Perché si Fatemi chiudere Non voglio vedere Neanche la classifica Non voglio vedere Non voglio vedere nulla Non voglio vedere nulla Fatemi Fatemi chiudere Alla prossima Alla prossima Alla prossima